Siete tutti responsabili, la Camorra è che si resta facciò un ospedale, in Italia sono facciò un ospedale per Camorra, si rendono la faccola, la faccola e in questo parlamento grazie a Camorra e grazie a Natale, a tutti quanti i partiti e i periodi entrano a nostri transitoriali, c'è la vista di quanto è più lo strutturato, signor Presidente, in combattazione della nuova Santa Natale, più in alto liceo, più in alto liceo, più in alto liceo e più in alto liceo è un uomini schiai, sonoこれi ospedi e non un accordamento.